La squadra deve adattarsi agli interpreti che ha, punto uno. Poi a volte io sento dire anche oggi al campo d'allenamento lo spettacolo, ma io penso che uno che vuole vedere lo spettacolo c'è il Circo Togni, oppure ci sono quei bei film, il calcio, il calcio e l'enfatizzazione del risultato. Per me una partita è bella quando una squadra sa stare in campo, per me la partita è bella quando c'è l'esasperazione dell'aspetto tattico, senza attanagliare le qualità del singolo, nella maniera più assoluta. Ma che significa lo spettacolo? Io voglio capire cosa significa lo spettacolo. Io ho visto Tottenham Juventus, ma per dirne una, la Juventus negli ultimi dieci metri a Londra prendeva la palla e la buttava in curva. Ho visto un'altra, ma quella è la bellezza, il volere il risultato a tutti i costi. Poi non so, se a voi piace vedere dieci passaggi consecutivi e non verticalizzare, con le squadre di Capuano non li vedrete mai, perché Capuano vuole una squadra pragmatica, una squadra razionale, una squadra che raggiunge il risultato. Punto. Dipende.